Tutte le novità apportate dal Tribunale di Pisa sono state possibili, come racconta la Presidente della Sezione Civile del Tribunale di Pisa, Eleonora Polidori, grazie ai nuovi mezzi telematici. Tutto questo si è potuto realizzare grazie ai nuovi mezzi del processo civile telematico e anche agli istituti che opportunamente sono stati previsti normativamente subito dopo lo scoppio della pandemia. Sono state previste nuove forme come la modalità scritta in sostituzione delle udienze orali, grazie alle quali i giudici vengono direttamente a conoscenza di tutte le informazioni delle istanze presentate. L'udienza orale sostituita dalla modalità scritta con la quale gli avvocati depositano le loro richieste istanze sul processo civile telematico e il giudice senza necessità di un'udienza vera e propria viene a conoscenza degli argomenti e delle difese dei difensori. Era però prevista tra i vari mezzi anche la videoconferenza o per motivate ragioni l'udienza in presenza. Laddove però questo tipo di modalità non era ritenuto sufficiente da noi giudici o veniva sottolineato dalle parti che fosse opportuno, era possibile fare l'udienza in presenza per motivate ragioni o la videoconferenza. Il Tribunale di Pisa è riuscito a ben affrontare questa situazione di emergenza grazie a questi nuovi strumenti telematici. Quindi con questi strumenti piuttosto agili, piuttosto anche fungibili da parte del singolo giudice, tutti noi abbiamo potuto lavorare quasi come se il Tribunale fosse in una situazione di normalità. Quindi direi che senz'altro è un'esperienza che pur con tutto il dramma che ha portato comunque è stata credo affrontata abbastanza bene dal Tribunale.